Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si sta intensificando su strade e autostrade della Toscana. Possibili disagi in A1 in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna. Sulla Firenze Mare, tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, tra Prato Ovest e il Bivio a 11 a 1, tutto verso Firenze e in Fipili tra la Strassigna e Firenze Scandici, ancora una volta verso il capoluogo. Nell'ambito dei cantieri tramvia, informiamo che è stato revocato il restringimento di carreggiata nel sottopasso Milton-Strozzi. I veicoli hanno quindi a disposizione due corsie in direzione Viale Belfiore. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Prima di salutarci per il traffico ferroviario, l'Intercity 580 a Terni, Milano Centrale, sta viaggiando con 33 minuti di ritardo. Il transito a Firenze-Santa Maria Novella, al momento previsto alle 8.39, salvo recupero. Oversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!